Ti fa male il bernoccolo? Un po', ma il vero problema è che devo passare la notte fuori casa. Traducimi, Giuseppina è una donna dai facili costumi. Peppa Pig. Ma bene, complimenti, fa guidare il cane. Ma veramente, io ho solo chiesto un passaggio. Ripeti con me. Sal. Sal. Siccia. Siccia. Salsiccia. Salsiccia. Mi sono rotto la gamba in tre posti. Beh, allora non andare più in quei posti. Voglio una serata da brividi. Ok, spengo il termosifone. Me.